Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, commozione in città per l'addio ad Aldo Gnaldi, il 73enne che ha perso la vita nell'incidente mortale avvenuto ieri in Viale Don Menzoni ad Arezzo. Aldo Gnaldi, 73 anni, elettricista, originario di Anghiari ma residente a Tregozzano, alle porte di Arezzo. È lui l'ultima vittima della strada nell'Aretino. L'uomo stava viaggiando lungo Viale Don Menzoni, il raccordo di Arezzo a bordo di una Punto Bianca, ieri quando si è scontrato frontalmente con una Golf grigia che procedeva in direzione opposta ma che per motivi in corso di accertamento ha sbandato ed è finita nella corsia opposta. A nulla sono valsi i minuti di massaggio cardiaco e aver attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Il 73enne era stato ritrovato dai soccorritori già in arresto cardiaco a bordo dell'auto. Poi la disperata corsa è in ospedale ma il 73enne è morto pochi minuti dopo il suo arrivo all'ospedale di Arezzo. Grave è anche la donna di 40 anni che guidava la Golf che è stata trasportata sempre all'ospedale di Arezzo. I rilevi di legge sono stati effettuati dalla Polizia Municipale che adesso dovrà accertare cosa sia realmente accaduto in quei minuti e il perché la Golf abbia invaso la corsia opposta. E anche il tennis Giotto esprime le sue condoglianze. La famiglia di Gnaldi era un uomo disponibile, cortese, solare e professionale per 30 anni e è stato un punto di riferimento per quello che riguardava l'elettricità interna al nostro circolo, contribuendo al miglioramento dei nostri impianti e risolvendo ogni problema alla famiglia le più sentite condoglianze, scrive il tennis Giotto. E' un altro scontro frontale, si è verificato nella Rettino, è avvenuto poco dopo le 10 lungo la strada provinciale 25 nel comune di Lucignano. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est. I soccorritori hanno preso in carico un ferito, un uomo di 61 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Parliamo di rischio incendi perché da oggi è di nuovo possibile effettuare i cosiddetti abbruciamenti. Termina venerdì 1 settembre il periodo di rischio incendi in Toscana. E' quindi di nuovo possibile effettuare abbruciamenti di residui vegetali sul territorio, salvo l'istituzione di un nuovo periodo a rischio se dovessero cambiare le condizioni. E' importante però seguire prescrizioni precise e adottare tutte le cautele necessarie. La diminuzione delle temperature di questi giorni permette di poter terminare la fase estiva di divieto di abbruciamento, afferma il Presidente Eugenio Gianni, ma invito i cittadini alla massima attenzione al rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale Toscano e a segnalare con tempestività e scrupolo le situazioni di pericolo. Il Regolamento Forestale Toscano prevede l'assenza di vento come condizione necessaria per procedere ad un abbruciamento. La colonna di fumo deve così salire verticalmente. Per poter eseguire abbruciamenti in un bosco o nelle aree assimilate a bosco è necessario preventivamente essere autorizzati dall'ente competente sul territorio ai sensi di legge. Se invece si opera nei 50 metri di distanza dal bosco e nei castagneti non occorre essere autorizzati ma bisogna comunque osservare le norme di prevenzione che impongono di utilizzare spazi ripuliti dalla vegetazione nei quali limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli. Mai infine operare da soli e osservare continuamente la zona fino al completo spegnimento delle braci. E sul fronte del rischio incendi il bilancio dei cosiddetti angeli arancioni di Castiglione Fiorentino parla di 15 interventi totali sul territorio del comune della Valdichiana nell'estate che insomma si sta concludendo 28 le squadre di volontari coinvolti e per quanto riguarda l'attività fuori dai confini comunali la VAB di Castiglione Fiorentino ha prestato soccorso in due incendi con il coinvolgimento di quattro squadre. Quest'anno grazie ad un giugno piovoso spiega Luca Fabianelli consigliere comunale con delega alla protezione civile le piogge ci hanno aiutato molto a superare il periodo estivo e scongiurare importanti incendi boschivi. La cronaca sindacale ci porta di nuovo in Valdarno e a parlare ancora una volta dell'opificio di Terra Nuova Bracciolini sono state annunciate altre 16 ore di sciopero e adesso la preoccupazione è davvero alta per i 35 lavoratori. Registriamo strategie, progetti ed annunci tutto bene ma quasi niente di realizzato abbiamo praticamente esaurito la cassa integrazione stiamo raschiando il barile delle ferie e dei permessi non si lavora a pieno regime e non si è ancora riscosso lo stipendio di luglio e Gianni Rialti della FIOM CGL a dar voce al disorientamento dei 35 lavoratori dell'opificio tecnologico di Terra Nuova Bracciolini che oggi hanno scioperato per otto ore e che faranno altrettanto il prossimo lunedì. Negli incontri che abbiamo avuto con l'azienda prosegue il sindacato non abbiamo registrato la tradizionale conflittualità che può manifestarsi in situazioni di questo tipo l'azienda continua a fare annunci e strategie che sulla carta avrebbero già dovuto esaturare la produzione la realtà poi è drammaticamente diversa e pone seri interrogativi sul futuro dei 35 lavoratori e di altrettante famiglie qui l'età media e bassa non si arriva certamente a 40 anni l'opificio tecnologico ancora sulla carta è collocato in un mercato in espansione il sito aziendale parla di produzione di elettronica di potenza digitalizzazione industriale e stampanti 3D un'azienda del futuro quindi che però afferma Rialti sembra non riuscire a realizzare quanto è in grado di immaginare e progettare uno scarto tra teorie e prassi che rischiano di pagare i lavoratori sono 11 i progetti finanziati nella Rettino da parte della regione toscana con investimenti per finalità sociali e sociosanitarie fanno parte del pacchetto dei 64 vincitori a livello regionale grazie ad un bando di 1,3 milioni di euro complessivi per quello che riguarda l'area retina i finanziamenti sono andati al centro per le famiglie di Arezzo e alla RSA Maestrini della ASL siamo alla pagina della cultura in linea con le iniziative del Ministero della Cultura domenica prossima 3 settembre come sappiamo ci sarà anche la giostra del Saracino e come ogni prima domenica del mese le gallerie d'Italia saranno aperte per quello che riguarda le proprietà di Intesa San Paolo ad Arezzo si tratta della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi che custodisce non solo l'eclettica collezione dell'illustre Aretino ma anche opere della collezione di Intesa San Paolo quindi ingresso gratuito appunto a Casa Bruschi e adesso invece ci spostiamo in Alto Casentino dove è in corso la biennale di ferro del ferro battuto Astia si sono accese le forge e hanno iniziato a battere il ferro e a cesellare gli oltre 300 fabbri provenienti da 16 paesi di tutto il mondo Astia si è così aperta la 25esima biennale europea d'arte fabbrile e ha preso in via l'undicesimo campionato del mondo di forgiatura che si concluderà domenica 3 settembre per noi è sempre una grandissima emozione accogliere tutti i fabbri, tutti gli sponsor, le istituzioni e avviare davvero un'altra volta questa quattro giorni stupenda di arte, artigianato perché ormai le due cose sono veramente compenetrate ormai è diventata veramente una mostra di artigianato artistico che coinvolge tutto il paese, centinaia di volontari, davvero tutti quanti Il tema scelto per l'edizione 2023 è connessioni Ci resta che assistere al loro lavoro e vedere quali meraviglie possano uscire come sempre in queste tre ore in cui ciascuno dei fabbri lavorerà nel proprio posto ci stupiranno come sempre Anche per questa 25esima edizione prosegue l'anificio spazio vuoto incubatore di idee dove artisti di tutto il mondo espongono attraverso l'arte della forgiatura la loro voce È un paese piccolo e questo è possibile proprio perché tutti partecipiamo altrimenti non potremmo mai riuscire a portare avanti questo lavoro Sarà infine un'edizione dedicata ai giovani al centro la neonata Scuola di Arti e Mestieri per la Formazione e Lavorazione del Ferro intitolata alla memoria di Romano Mazzieri uno dei volontari della Biennale recentemente scomparso Perché è una prospettiva di lavoro che va oltre la massificazione nei lavori standard ma invece esalta anche per i giovani talento e qualità su cui oggi c'è una potenzialità di remunerazione perché poi la Toscana è attrattiva per l'artigianato di qualità e conseguentemente si creano professioni che danno il senso dell'importanza di un'attività formativa proprio sulla arte del ferro battuto Lettera alla vita è la quarta fatica letteraria della retina Martina Naccarato un insieme di brevi prose poetiche con alcuni tratti leopardiani ma in cui non mancano ottimismo e positività l'intera opera non è altro che un inno alla vita un invito a cercare il bello dell'esistenza e del quotidiano nonostante le sfide più o meno difficili da superare la presentazione del libro organizzata dal gruppo consigliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra è in programma per il prossimo sabato 9 settembre alle 16.30 all'auditorium Montetini del comune di Arezzo alla presentazione oltre a Francesco Romizzi parteciperanno anche Francesco Cortonesi Amina Kovacevic e Maria Isite Friscia torna ad Arezzo il Summer Jets Festival ed è stato subito un grande successo è tornata in Piazza Grande la musica di Arezzo Summer Jets Festival l'appuntamento estivo che porta in città le stelle del jazz italiano come Jazz Club di Arezzo lavoriamo per questo per far sì che i giovani si avvicinino al jazz e un po' ci stiamo riuscendo questa sera la piazza è piena di giovani primo appuntamento con una grande big band la Jazz on the Corner Open Orchestra diretta da Francesco Giustini è un repertorio vario sia gli standard jazz più famosi così sia alcune realizzazioni di composizioni originali del direttore d'orchestra Francesco Giustini Piazza della Badia ospiterà anche il concerto inaugurale il secondo appuntamento della rassegna entrambi annullati per mal tempo il 4 settembre ci saranno due gruppi il primo è il Round Midnight e il secondo gruppo Winters il 5 ci sarà il GTA Quintet e poi un gruppo importante il Simoni Quartet che è un sassofonista fantastico e siamo allo sport un pomeriggio di grande pallacanestro al Palasport Estra Mario Dagata quello di domani sabato 2 settembre in programma una doppia amichevole a partire dalle 16 quando i riflettori torneranno ad accendersi sulla prima squadra della scuola basket Arezzo che vi abbiamo fatto conoscere nel corso dei nostri telegiornali più o meno da una settimana a questa parte la sbagio che era contro i Dukes Sansepolcro poi alle 18 il match tra Umana San Giobbe Chiusi di serie A2 e il basket Golfo Piombino i due incontri saranno ad ingresso gratuito e saranno presenti anche le telecamere di Arezzo TV parliamo adesso invece di tennis volgono al termine i campionati italiani giovanili under 14 al tennis giotto con il trofeo intitolato a Federico Luzzi volgono verso il finale i campionati italiani maschili under 14 trofeo Federico Luzzi sui campi del tennis giotto ad Arezzo il livello espresso da questi ragazzi è un livello molto molto alto sono i giovani del futuro ma sono i giovani di oggi ma sono i campioni del futuro il livello che esprimono è già un livello di seconda categoria quindi abbastanza alto siamo a livelli di tornei open che non è proprio facile vedere nella nostra provincia ma soprattutto è un torneo nazionale dedicato a Federico Luzzi il nostro concittadino grande campione di tennis grande uomo e in sua memoria questo torneo è dedicato anche nel futuro perché ha un trofeo permanente Federico Luzzi la manifestazione prevede le semifinali di singolo e finale del doppio per sabato 2 settembre seguite alle 11 di domenica 3 settembre dalla finalissima del singolo che assegnerà il titolo di campione nazionale questi saranno ragazzi che probabilmente vedremo nei nostri schermi televisivi tra qualche anno sono i migliori talenti della loro generazione e giocano per avere 14 anni alcuni nemmeno un tennis veramente di altissimo livello sta vivendo il tennis italiano un momento di grande splendore questo probabilmente porterà nelle varie scuole dei giovani appassionati si in effetti questo si sta rivelando regolarmente come quando ci sono i successi dei big però devo dire che il tennis ormai è entrato stabilmente nelle case degli italiani attraverso la televisione Super Tennis ora che sta trasmettendo Luz Open è un esempio in chiaro perché tutti la possono vedere e ormai è vero che sono legati molto ai nomi degli italiani ma lo spettatore legato ormai conosce anche i giocatori stranieri e si appassiona anche agli altri quindi direi che ormai il tennis è diventato a pieno titolo uno sport popolare e noi toscani siamo estremamente contenti della nostra posizione in Italia perché ricordo che in questo momento quattro atlete toscane sono nelle prime otto giocatrici dell'Under 12 che si sta svolgendo a Milano e due su quattro nel campionato Under 14 femminile che si sta svolgendo a Prato è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lasciamo questa sera con l'ultima puntata dedicata alla giostra del Saracino in radiovisione in collaborazione come sempre con Radio Fly e Corrergiostra.it grazie per l'ascolto e arrivederci Grazie a tutti Grazie.